Dicevamo, l'apparato apicale è composto da stereociglia, un ciuffo di stereociglia. Questa è una cellula vestibolare, la vedremo poi nella lezione relativa. Queste sono le cellule della coclea. Le stereociglie, le cellule ciliate interne, sono tutte in fila, in una fila più o meno lineale, e sono tre o quattro ordini di stereociglia. Le cellule ciliate esterne formano una V o una W, a seconda della cellula che uno va a vedere, ci sono entrambe le configurazioni, e anche loro però, appunto, sono disposte in scala. E questo è estremamente importante perché, non so se l'avete già visto, cos'è che mi dà la meccanotrasduzione, i ciufficiglia sono legati da una serie di filamenti di vario tipo, proteici di vario tipo. Tra questi filamenti ce n'è uno che è particolarmente importante, che è questo che viene chiamato filamento apicale o tip link. E il tip link collega solo e soltanto stereociglia di fila adiacente, quindi quella alta con quella bassa. E questi tip link che cosa sono? Sono quelli che mi servono ad aprire i canali, perché di fatto i canali sono meccanossensibili proprio perché vengono tirati aperti quando io muovo l'organo di corti. Qua la rappresentazione non è corretta, perché poi dal punto di vista molecolare si è visto che non funziona così. Però, dal punto di vista fisico, il primo modello che è stato fatto di questi filamenti era che fossero delle molle. Appunto, come vedete qua, abbiamo la molla che tiene attaccate le stereociglia. Cioè, quando io tiro questo stereociglio, la molla mi tira aperto il canale, il canale ha uno sportellino che, se viene tirato abbastanza, si apre e mi fa entrare il potassio. Effettivamente ci sono dei trattamenti con proteasi varie che mi distruggono completamente i tip link e io perdo completamente la meccanosensitività. Se io vado a vedere il potenziale di recettore di una cellula ciliata e muovo le ciglia, vedo che c'è una modulazione del potenziale che dipende dal movimento dell'apparato apicale. Peraltro, appunto, è possibile stimolarlo con una fibra di vetro tirata abbastanza sottile, uno gli va vicino e lo muove e con un elettrodo da patch tipicamente si fa registrare poi cosa fa la cellula. Se lo stiramento è abbastanza forte, il canale si apre e cosa succede quando si apre? Entra il potassio, abbiamo detto, però entra anche un pochino il calcio. Perché? Perché il calcio ce n'è poco nell'endolinfa, ma ce n'è comunque di più che nel citoplasma. Ed è importante, come in tutti i sistemi sensoriali, il calcio, per bloccare la trasduzione, per fare un feedback negativo sulla trasduzione. E infatti, nella corrente di meccanico di trasduzione, io ho un adattamento che è dovuto proprio all'ingresso di calcio, dall'endolinfa al citoplasma all'interno dell'estereocidio. Questo adattamento è fatto in due fasi, e consta di due parti, e c'è una fase lenta e una fase rapida. Allora, quello rapido, concettualmente è più facile, è esattamente come succede nei fotorecettori. Il canale meccano sensibile è chiuso dal calcio. Esattamente come nei fotorecettori, il calcio mi apriva i canali CNG, quindi mi chiudeva i canali CNG, e quindi mi adattava alla fototrasduzione. Qua il calcio mi chiude i canali MET e mi adatta alla meccano trasduzione. C'è un altro meccanismo di adattamento che è più lento, e che coinvolge una miosina. Miosina 1C, perché voi sapete che le stereociglia, microvilli, le stereociglia alla fine sono microvilli più lunghi, non è che abbiano una struttura diversa, hanno una struttura un po' diversa alla base, ma il concetto è sempre questo, sono dei fasci di microfilamenti con attorno alla membrana. Quindi, tutti i filamenti di actina, questa è la mia membrana, ci sono nella membrana delle stereociglia, vicino al canale di meccano trasduzione, un certo numero di molecole di miosina, miosina 1C, che sono in grado di far spostare il canale lungo verticalmente sullo stereociglio. Quindi, sono in grado di modulare la tensione della molla, perché, se ci pensate, se io ho una struttura, che ha una certa elasticità, e mi collega, appunto, stereociglio più basso con quello più alto, quello più basso, la struttura è ancorata in punta, quindi non si muove, in quello più alto, però, sono attaccata lateralmente, per cui, se devo aumentare la tensione, cosa faccio? Vado in su, e qui lo tiro di più. Se devo ridurre la tensione, mi sposto verso il basso, e affloscio la molla di getting. In questo modo, io modulo la tensione meccanica, che viene applicata al canale, e quindi la sua probabilità di apertura. Questi meccanismi di adattamento, però, non servono solo e soltanto a spegnere la risposta dopo un po', ma hanno un effetto molto più complesso, che è stato scoperto ormai, oddio, 10-15 anni fa, però ha ancora sicuramente tanto da spiegare, che è una serie di fenomeni attivi nella meccanotrasduzione. Finita meccanotrasduzione, poi vi lascio. Cosa, cosa vuol dire? Cosa comporta questa cosa? Allora, guardate un attimo le scale su cui noi stiamo operando. Nanometri, pico Newton. Quindi siamo a livello molecolare. Se io ho tutti i canali chiusi, la molla di gating è attaccata al canale, il canale è chiuso, quando la molla tira, a un certo punto la gate si apre. Però nel momento in cui la gate si apre, la lunghezza della gate si aggiunge alla lunghezza della molla, per cui di fatto allunga il filamento, e quindi abbassa la tensione. Un po' come il tiro alla fune quando tutti mollano da una parte, ma dall'altra vanno indietro, tutti tirano molto rapidamente. esattamente lo stesso meccanismo. Qua, quindi, se io vado a fare una curva forza spostamento del mio ciuffo di ciglia, non ho una curva lineare. Proprio perché nel momento in cui il canale si apre, mi cambia la lunghezza della molla. Quindi, quando tutti i canali sono chiusi, ho una parte lineare della curva. Quando tutti i canali sono aperti, ho ancora una volta una parte lineare della curva. nel mezzo ho una parte a cosiddetta complianza negativa. Cosa vuol dire complianza negativa? Vuol dire che paradossalmente, invece di dover applicare la forza per farlo aprire, è l'unitanto che si apre, che applica della forza al sistema. Questo è alla base della possibilità di sintonizzare in frequenza il movimento meccanico. Perché ovviamente, a seconda della velocità con cui io sto muovendo le cose, quel meccanismo li può succedermi con una certa frequenza preferenziale. E infatti, è stato visto prima nel sacro di rana e poi anche nella coclea, il mio, se io lascio il ciuffo di ciglia in una posizione, questo è lo spostamento, per cui se io mi metto in una posizione molto vicina a questa non linearità, il ciuffo di ciglia non sta fermo, ma si muove continuamente aprendo e chiudendo i canali, perché quando li apre arriva del tutto dall'altra parte e poi ritorna lentamente e poi si chiude tutto in una volta. Per cui, quello che ottengo è un'oscillazione meccanica spontanea dovuta a questa non linearità. Questa oscillazione ha una sua frequenza preferenziale ed è uno dei modi con cui le cellule ciliate si sintonizzano in frequenza. Peraltro, il metodo primario nella coclea è la membrana basilare. La membrana basilare vibra in modo diverso a seconda di dove si trova. Però anche le cellule ciliate interne della coclea con questo metodo qui hanno una loro preferenza in frequenza intrinseca. Ultima cosa poi vi lascio andare quello che vi ho detto che non è corretto della figura della molla di Gating è fatto vedere bene qua perché la molla di Gating è stata identificata come una caderina in realtà un mix di caderina 23 e protocaderina 12 queste due molecole queste molecole hanno una caratteristica cioè sono rigide per far funzionare il mio sistema io devo avere un elemento elastico e le caderine non lo sono però per cui dicevo il sistema non funziona cosa c'è che non va? Allora questi sono i lavori di Cacciara che sono spettacolari ha fatto una ricostruzione a livello atomico di queste strutture e ha visto che effettivamente la forma corrisponde con quella ricostruita delle caderine però è vero che qui io non ho niente di elastico ma se vado a vedere qual è il canale che c'è dall'altra parte ci sono dei canali che hanno un elemento elastico in serie attaccato all'ecitoplasma quindi ancora una volta io posso avere una corda inestensibile ma posso far muovere in modo elastico i canali quindi sono fissate in modo elastico le due estremità quindi anche se non sono elastiche loro di per sé va bene lo stesso perché l'elemento elastico in serie c'è lo stesso non è parte del tip link ma concettualmente la cosa non cambia quale sia il canale di meccanotrasduzione è ancora un po' un po' in forse nel senso che di candidati ce ne sono diversi canali TRP canali CNG canali HCN i canali TRP sono i più interessanti perché appunto diversi di questi canali hanno questi domini di ancorina che sono in grado di fare da elemento elastico per cui sono i candidati diciamo più gettonati però ancora adesso non c'è un esperimento chiave che abbia identificato chiaramente che il canale di meccanotrasduzione a livello molecolare è uno piuttosto che un altro e con questo ci fermiamo all'estereociglia e andiamo giù nel resto del sistema culturale la prossima volta e andiamo e andiamo